Buongiorno, da Telpress Italia, primo piano, nota stampa di sabato 9 ottobre. Per quanto riguarda i temi di difesa, Stoltenberg, il patto AUKUS, non deve dividere la Nato, scrive l'osservatore romano. La disputa tra Parigi e Washington, causata dal partenariato strategico AUKUS sui sottomarini a Canberra, siglato tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, non deve dividere la Nato, è l'avvertimento lanciato dal segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. Capisco la delusione della Francia, ha detto, ma questo tipo di controversia non deve causare una frattura all'interno dell'Alleanza Atlantica, né minare la forza del legame transatlantico. Secondo Alberto Negri, sul quotidiano del Sud, tra la Nato e i grandi discorsi che si fanno sulla necessità di una difesa europea, si è innescata una sorta di cortocircuito. Non si capisce a cosa debba servire l'una e cosa dovrebbe fare l'altra. Inoltre, gli accordi militari tra Francia e Grecia sottolineano un'altra grave contraddizione all'interno del campo occidentale. Sono in funzione antiturca, cioè contro un altro membro della Nato. La situazione, scrive, è assai confusa. Per Riccardo Riccardi, nella rubrica Tiro a Segno, all'Europa non serve più questa Nato. Costituito nel 1949, il Patto Atlantico rappresentava un sistema di collaborazione militare per la difesa dei paesi europei occidentali dalla minaccia dell'URSS, potenza già soggiogante sull'est europeo. A suo tempo, nell'alleanza Nato, fu ammessa la Turchia, allora stato laico nel solco filosofico di Ataturk. Oggi, cancellata da memoria del padre della patria, il paese della mezzaluna è diventato confessionale sotto la guida dittatoriale e a vita di Erdogan. Il nuovo sultano, in barba ad ogni trattato, non disdegna una politica a dir poco ambigua. Oltre ai vari temi, Siria, Afghanistan e Libia, il presidente turco ha sondato la possibilità di una cooperazione militare con Mosca, ipotizzando acquisti di sistemi antiaerei, aerei da combattimento e sottomarini. Con l'Europa silente nei propri interessi economici e militari, gli Yankei hanno milacciato sanzioni che avrebbero effetti devastanti sulla già precaria economia di Ankara. L'unico leader che ha sottolineato come la Nato interessi poco l'Europa è stato Draghi, che sia lui l'erede della Merkel. Per quanto riguarda gli esteri, la nostra legge prevale sui trattati, la sfida di Varzavia rilancia i sovranisti UE, scrivono Repubblica e tutti i quotidiani, esultano Lega e Giorgia Meloni, gli italiani vengono prima di Bruxelles, cresce il rischio polexit con la von der Leyen che si dice preoccupata, anche Letta parla di gravi conseguenze. Sassoli, democrazia a rischio, misure drastiche contro i populisti, dobbiamo lasciarli senza fondi, poi aggiunge, siamo di fronte a un vero salto di livello, un attacco ai nostri valori, serve una reazione molto ferma. Il premier polacco assicura di non voler uscire dall'Unione, finora si sono sempre fermati ad un passo dal disastro, perdere i fondi europei. Anche secondo il messaggero lo scontro sulla Polonia rianima i sovranisti e il centrodestra si spacca, Varzavia sancisce il primato della legge nazionale, von der Leyen promette reagiremo, Salvini e Meloni parlano di diritto sacrosanto, ma Tajani prende le distanze. Per la stampa 13 stati chiedono a lui di finanziare i muri contro i migranti, lettera alla commissione per ottenere fondi dal bilancio comune, ma Bruxelles non cede e respinge al mittente, non con i nostri soldi. Secondo Libero invece Bruxelles si deve arrendere, 12 paesi europei vogliono i muri contro i migranti, anche governi di sinistra e di centro nel gruppo che chiede di fermare i clandestini. La commissaria Johansson cede, fate pure, ma non usate i fondi comunitari. La stampa racconta intanto degli americani a Taiwan, Marines e forze speciali a Taipei da un anno per addrestare i soldati locali. Cresce però il rischio di una deriva militare, come avvenne con Kennedy in Vietnam. Intanto il Sole e altri quotidiani raccontano di un'altra strage dell'ISIS in Afghanistan, un attacco kamikaze rivendicato da Daesh ha causato almeno 80 morti. In economia il messaggero propone un focus sulle imposte, addio ai mini tributi, spariscono superbollo e tassa sul passaporto. La riforma fiscale del governo elimina i balzelli più fastidiosi e meno redditizi. L'operazione vale circa 250 milioni di gettito che lo Stato dovrà recuperare. Per le cartelle altra rottamazione in vista, il 78% dei ruoli sotto i 1.000 euro. Per quanto riguarda le pensioni saranno più alte dal 2022, aumenti medi di 300 euro. Il balzo dell'infrazione farà scattare la rivalutazione ferma da due anni. Per compensare la crescita dei prezzi sono previsti 4 miliardi di spese in più. Green Pass e lavoro dal 15 ottobre scaterà l'obbligo. Su stampa parla Massimiliano Fedriga. Così le imprese rischiano il caos. Dice il governo deve intervenire subito. Poi sottolinea autorizzare i test nasali con un decreto e una proposta utile. Tamponi ogni 72 ore. In altri paesi UE è così. Bisogna consentire agli imprenditori di organizzarsi. Non peniamoli ora. Che c'è la ripresa? Secondo Luca Zai, intervistato da Repubblica, bisogna cambiare il decreto sul Green Pass. O a migliaia perderanno il lavoro. Poi chiede al governo di autorizzare i test fai-da-te in azienda. Solo nella nostra regione dice ci sono 300.000 dipendenti non vaccinati. Non possiamo perderli. Secondo quanto riportato dal messaggero, le imprese stanno organizzando con scanner e questionari per monitorare i dipendenti. Poche industrie offrono però tamponi gratis agli operai. Ma intanto il Nobel Parisi borcia il PIL. Misura incompatibile con la lotta per il clima. Dice il fisico critica le azioni dei governi in tema ambientale. Non all'altezza della sfida. Più soldi per la scienza. E Mattarella dice bisogna agire subito. Per clima digitale e donne subito azioni concrete, scrive anche il Sole. Consegnate al Premier Draghi le proposte delle imprese ai governi. La presidente del B20 Marcegaia. Aziende pronte a fare il necessario per un futuro migliore. Il 2021 sarà un anno di crescita. Sul recovery arriva intanto la protesta dei sindaci del Sud. Ci spetta il 40%. Accordo violato. Ma la Carfagna rassicura. I fondi ci sono. Il mezzogiorno dimostri di saperli spendere. Poi aggiunge. In ogni atto ufficiale c'è la cifra di 82 miliardi. E andranno per strade, alta velocità, scuole, porti e sanità. Ci sarà una crescita del 24%. Chi contesta è in mala fede. Ma i bandi non si scrivono da soli. La campagna ad esempio finora ha attivato 2,9 miliardi. Sui 6,7 totali stanziati. In primo piano su tutti i quotidiani è anche lo storico accordo sulle multinazionali, sia la tassa minima globale del 15%, il via libera dei paesi Ocse dal 2023 e in arrivo 150 miliardi di dollari di ricavi fiscali in più. In politica, virus tutta l'Italia è zona bianca. Pandemia sotto controllo, scrive il Corriere Draghi, è il calo di contagi dopo la fine dell'estate e la ripresa. Sono 34 i casi ogni 100.000 abitanti. Diminuiscono anche i ricoveri. Secondo il ministro della Salute rimane comunque l'incognita delle varianti. In Gran Bretagna si contano 40.000 casi al giorno e 1.000 morti in Russia. Speranza parla di un altro passo in avanti, ma serve cautela, dobbiamo ascoltare ancora gli scienziati. Per la stampa però è emergenza, Green Pass in 5,5 milioni sono ancora senza vaccino e i controlli sono un rebus. Dal 15 ottobre il documento sarà necessario nel pubblico e nel privato, preoccupa il numero elevato di lavoratori non ancora immunizzati. Si parte subito con la terza dose per tutti gli over 60, a sei mesi dalla seconda emanata la circolare della salute. Vale per una platea di 18 milioni di italiani allo studio misure per chi entra dalla Romania, probabile una quarantena. Il metro del nostro scontento titola invece la stampa, sottolineando come da lunedì decada l'obbligo di distanziamento, quella lontananza necessaria che ha imposto paura e solitudine. Scenari politici, Conte sempre più solo e Grillo teme il Big Bang, scrive il messaggero. Per sedare la rivolta interna l'ex premier vuole esare i posti da distribuire nel partito. Tra i parlamentari monta l'insofferenza, in venti pronti a lasciare dopo le nomine. Intanto il giornale sottolinea come il premier stia spingendo sull'agenda per chiudere il dossier PNRR, meno tortuosa anche la strada che può portarlo al Quirinale. Sul Corriere parla invece Giorgia Meloni, con me non c'è posto per i nostalgici del fascismo, la sinistra da sempre li usa come utili idioti. La leader di Fratelli d'Italia attacca, da noi nessuna ambiguità, non accetto lezioni dal PD e sottolinea, prevederò nel partito un organo che prenda provvedimenti per chi gioca contro di noi, perché a sinistra smetti di essere un mostro, un fascista, quando diventi uno di loro, gli scimmiotti e non prendi più voti. Berlusconi intanto promette a Draghi, garantiamo noi la stabilità politica. Il Cavaliere si esmarca da Salvini sulla riforma del fisco, il premier però è irritato col PD, no alla maggioranza Ursula. Su Repubblica intervista al nuovo sindaco di Bologna Lepore, Letta ora guidi una svolta laburista, i 5 Stelle non vanno a destra, si apre una fase costituente per le elezioni del 2023, aggiunge, solo con un'ampia coalizione si battono Salvini e Meloni. Anche per oggi, da Telpress Italia è tutto, l'appuntamento torna dopo.